Nuovo corso di laurea dell'Università del Salento presentato a Brindisi sullo sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici. Un tema sicuramente di grande attualità e di interesse globale che vede Brindisi protagonista. A noi fa molto piacere aver ragionato con l'Università del Salento a partire appunto dal Rettore per avere qui a Brindisi un corso di laurea di questo tipo. Proprio perché Brindisi tra parentesi è una delle città che in questo modello di transizione ci rientra pienamente per la presenza dei grandi impianti che sono qui a Brindisi e quindi questa necessità ovviamente di guardare al futuro. Noi abbiamo pensato di realizzarlo qui per una semplice ragione. La ragione è che la Regione sta investendo nel centro sulla decarbonizzazione e la sostenibilità per cui è un contributo che vogliamo dare alla Regione anche su questo piano. Vedete in questo momento la collaborazione massima con la Regione è proprio per realizzare progetti formativi che interpretano le esigenze di sviluppo di questo territorio. Di questo non possiamo che essere orgogliosi. Poi uno sguardo anche al futuro con il sogno di un polo del mare presso il rinato Castello Alfonsino. Dobbiamo tornare ad essere visionari in questo paese e in questa regione. Allora qual è l'idea? L'idea è fare qui il polo delle scienze del mare. Anzi per il mare possiamo dire più opportunamente. Allora immaginate cosa vuole dire una location come quella per gli studenti, per le istituzioni. Cioè l'idea di contribuire a quello che è il progetto della sovrintendenza, non di sorrapporlo, di contribuire e io parlerò tra poco con la sovrintendente proprio perché ritengo che questa sia una collaborazione interistituzionale.